rispetto alla Juventus Pelé Pelé verso Cruz ed è clamoroso il vantaggio dell'Inter si toglie la maglia Cruz e la lancia Juventus 0 Inter 1 con l'Inter che era in 9 contro 11 non puoi permettere a Cruz di colpire di testa in mezzo all'aria non lo puoi permettere perché lui è un grande giocatore e se gli capitano queste occasioni che leggerezza la Juventus Pelé ha indovinato l'assist scatto alla perfezione di Cruz sorpreso le grottaglie che si vede spucare da dietro Cruz è fuori posizione nettamente le grottaglie pelati nella terra di nessuno e Cruz colpisce, non deve faticare neanche più di tanto per appoggiare il rete la grande giocata bisogna dirlo di Pelé, questo giovane centrocampista portoghese e Cruz sfrutta la grande precisione per Cesar arriva Maxwell Cesar e c'è il raccoglio di Cruz ancora il jardinero stavolta il cross da sinistra e Cruz colpisce ancora Inter 2 Juventus 0 la Juventus ha preso due goal in superiorità numero infatti ha fatto un bellissimo cross e Cesar 29esimo minuto Inter 2 Juventus 0 ed è doppietta di Cruz all'inizio all'inizio ti avevo detto che volevo vedere la difesa della Juventus bruciato sullo scatto Bunzon da Cruz un gol da grande attaccante giocata di prima sul primo palo niente da fare per Belardi ha preso quella frazione di seconda Bunzon e è bastata per colpire grandissima